Trasformare il dibattuto tema della partecipazione dei cittadini alle scelte politiche da mera propaganda a fatto concreto per la regione Abruzzo. Il Movimento 5 Stelle e il coordinamento di democrazia costituzionale hanno presentato oggi la proposta di legge regionale di iniziativa popolare per istituire anche in Abruzzo strumenti di partecipazione alla programmazione e alle politiche regionali e locali. L'obiettivo è quello di dare un forte impulso al ruolo propositivo e di controllo dei cittadini abruzzesi realizzando l'effettiva partecipazione enunciata dal principio di sovranità popolare sancito dall'articolo 3 della Costituzione. Innanzitutto il dibattito pubblico su tutte le opere di grande rilievo a livello locale e a livello regionale, il dibattito pubblico preordinato a qualsiasi altro procedimento amministrativo. Poi la creazione di un osservatorio che è una organizzazione consultiva e propositiva a livello regionale è un garante perché la democrazia partecipativa non è una cosa che è alla portata di tutti. Ci sono esperienze in tutta Italia e in tutta Europa ma è un settore di studi e l'università la studiamo da oltre dieci anni e abbiamo quindi la possibilità di dare orientamenti e di fare proposte. Infine il sostegno, la regione deve sostenere il ruolo attivo dei cittadini attraverso l'intervento economico. Ci sono anche altre forze politiche però che potrebbero essere d'accordo con voi tipo Sinistra Italiana per attuare questi progetti? Noi lo speriamo, noi crediamo che bisogna andare oltre le ideologie, ci sono buone e cattive idee e questa è una buona idea per cui noi siamo assolutamente favorevoli.